Ciao ragazzi benvenuti a questo nuovo video, oggi parliamo di Thailandia, ci sono anche oggi tante notizie che riguardano Thailandia tutti gli aggiornamenti di quello che sta succedendo e di quello che vedremo poi nelle prossime settimane e adesso in questo episodio appunto vi faccio vedere tutto quello che è di rilevante da sapere appunto per quanto riguarda la Thailandia come sempre ragazzi prima di cominciare questo episodio, questa è la playlist Thailandia del mio canale YouTube ci sono tanti video aggiornati con tutte le novità, se ti piacciono i contenuti sulla Thailandia ti invito a iscriverti al canale cliccando anche sulla campanella per notifiche dei prossimi video, delle prossime live che faremo sul canale e ti chiedo ovviamente anche un like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube come sempre ora sigla e poi cominciamo Partiamo dall'ultimissimo aggiornamento che riguarda il CCSA che si è pronunciato su quella che è la situazione pandemica in Thailandia di fatto la mascherina che si pensava tornasse obbligatoria non lo è nel senso che è consigliata soprattutto nei posti diciamo pubblici affollati questo per affrontare quello che sta succedendo anche in Thailandia un pochino di aumento dei casi ma al momento quindi la mascherina non è obbligatoria esteso poi il decreto di emergenza se vogliamo in Thailandia questo era una frase se vogliamo e poi vengono comunicati quelli che sono i numeri del turismo vedete al 6 luglio circa 31.000 turisti sono in Thailandia e soprattutto i paesi con più turisti sono Malesia, India, Singapore, Vietnam e Australia ovviamente poi vedremo quello che succederà con il turismo nei giorni scorsi insomma si erano scatenate alcune voci su un possibile addirittura rientro del Thailand Pass al momento non ci sono assolutamente notizie in questa dimensione si va avanti di fatto così com'è per quanto riguarda appunto questo discorso della situazione pandemica al momento insomma non ci sono particolari novità se non altro insomma il governo thailandese rimane determinato nel portare avanti la riapertura del turismo e anche qui vedremo quello che succederà poi altra novità è quella che insomma gli esperti in Thailandia parlano di un possibile picco dei casi a settembre quindi da qui a settembre ci saranno uno dei casi in aumento vengono identificate le soglie critiche cioè non bisogna andare oltre i 4.000 così posti letto occupati per quanto riguarda la situazione pandemica anche qui è un numero che è stato fornito per far sì che si possa poi eventualmente accettare delle misure di contenimento anche qui però credo che la situazione sia comunque ancora ampiamente sotto controllo ripeto non credo proprio che questo potrà andare a influire quelli che sono i discorsi del turismo turismo troppo importante insomma soprattutto viene riaperto per poter essere poi bloccato andiamo poi a un'altra notizia molto interessante domenica ci sarà l'amichevole tra Liverpool e Manchester United da Bangkok e Klopp manager del Liverpool ha dichiarato non sarà un match amichevole questo perché qualche anno fa mi capitò di andare a vedere sempre a Bangkok un Liverpool Manchester United stadio strappieno molto bello se avete la possibilità e siete lì magari e vi interessa informatevi potrebbe essere interessante andare a vedere di questa partita c'è ancora poi altra notizia secondo me molto interessante una ricerca di mercato fatta sui tailandesi il 92% non guadagna più di quello che spendono insomma questo fa capire che l'aumento dei prezzi in Tailandia è particolarmente duro soprattutto questa problematica legata all'aumento dei costi dei litro carburi carburante vedete qua la domanda cosa ha condizionato di più la tua situazione economica vedete o il price quindi prezzo della benzina daily food molti mi dicono che il prezzo dell'alimentare quindi quello che si compra e mangiare è aumentato molto come ovviamente anche in Italia ma forse in Tailandia di più e elettricità 13% cooking gas in pochi cucinano 6% quindi questo fa capire insomma che la situazione dei prezzi in Tailandia sicuramente anche qui si fa sentire questo grafico mostra di fatto ogni singola componente di questo aumento c'è un'altra notizia molto interessante invece che riguarda Chiang Mai Chiang Mai sapete città del nord della Tailandia una delle città più belle a mio avviso dell'intera Tailandia che è stata nominata città numero uno per quanto riguarda i stati asiatici in ambito health care quindi in ambito cure sanitarie insomma questo perché le prezzature che ha, i costi che ha ha avuto una valutazione molto alta according to Nambeo quindi sulla base dei numeri, delle statistiche di Nambeo che è un sito specializzato nella raccolta di questa tipologia di statistiche Chiang Mai risulta essere il primo posto, il terzo posto per Bangkok anche questa notizia sicuramente in questo periodo di riapertura al turismo è una notizia che può essere molto importante perché ci sono persone che si spostano anche per ricevere cure mediche e questa tipologia di notizia può veicolare poi una certa quota di turisti verso Chiang Mai, verso Bangkok perché comunque al terzo posto, addirittura al quarto posto c'è anche Pattaya dove le strutture sanitarie sono di ottimo livello ovviamente per quanto riguarda Chiang Mai, ripeto si propone veramente come una città che andrà a recuperare molti flussi turistici perché negli ultimi 2-3 anni a causa pandemia aveva visto quasi azzerare i suoi flussi turistici ovviamente ragazzi come sempre fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate nelle notizie di oggi soprattutto qual è la vostra visione per quanto riguarda questo aumento dei casi in Thailandia se pensate che potrebbero esserci ulteriori restrizioni al momento, ripeto, non ci sono vicini, insomma, cambiamenti per quanto riguarda il possibile ripristino in Thailand Pass che alcuni di voi mi avete chiesto negli ultimi giorni al momento non c'è nulla, insomma, in questa direzione vedremo poi come si evolveranno i fatti nelle prossime settimane ovviamente ragazzi come sempre fatemi sapere nei commenti qui sotto questa è la playlist, mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un bel like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube e come sempre, quindi, ci risentiamo nelle prossime giornate sempre con i nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la Thailandia un grande abbraccio e a presto 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 Grazie a tutti.